Sabato e domenica a Sanamano arriviamo alla 35esima edizione della mostra dell'erbe e saga del Savardola. Sarà un weekend ricco di appuntamenti, alcuni dedicati agli aspetti più scientifici, come appunto la conferenza sulla biodiversità di sabato mattina, ai vari laboratori che saranno aperti un po' a tutti, quindi tutti avranno occasione di scoprire il mondo dell'erbe, il mondo più legato alla natura, le escursioni e degustazioni legate sempre al mondo dell'erbe, che in genere incuriosiscono parecchio. Ovviamente avremo anche un appuntamento dedicato alla saga del Savardola, il sabato sera e la domenica mattina con un laboratorio, per poi anche alcuni eventi collaterali che sono principalmente dedicati alla musica tradizionale, come le Launeddas e alcune dedicate alle arpe, insomma, il sabato. Quindi diciamo che ce ne sarà per tutti i gusti, speriamo di accontentare un po' tutti i visitatori e speriamo, insomma, che come gli altri anni sia un buon successo di pubblico.